Il Comune di Battipaglia si riprende le sue tre farmacie. Dopo nove anni, infatti, c'è l'accordo tra Palazzo di Città e i vertici del Cofaser, il consorzio farmaceutico che dal 1998 gestisce le tre strutture municipali. La soluzione ha la forma di un accordo transattivo. Il patto prevede che il Cofaser restituisca sin da subito le tre autorizzazioni di farmacie al Comune di Battipaglia. Infine, è stato raggiunto l'accordo che prevede che dopo l'acquisizione Cofaser continuerà ad occuparsi delle farmacie in attesa di passare la mano ai privati.